3, 2, 1, e dovremmo essere in live, vediamo subito se le cose stanno andando come previsto, sperando di sì, possibilmente, perché io mi sto, come sempre vado nel panico, e sì, siamo in live. Aspetta che a me non lo trova, non trova la live. No, 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 tranquillo, è partita, è partita, io la vedo, la vedo, è qui. Ah, ok, 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 mi è parso adesso. Perfetto, mentre la gente entra, intanto io vado a mandarla nel gruppo di Telegram, che per quelli che si stanno connettendo adesso vi invito a iscrivervi, così giusto per iniziare. Perfetto, subito, il nostro labarile, lui, eccolo qua, perfetto, buonasera Davide, mi fa piacere averti qui con noi, eccoli qua, 15, e intanto si sente, si vede tutto, non ci sono problemi, fatemi sapere così non abbiamo, non abbiamo problemi. Buonasera, ciao Matt, auguri, anzi, visto che ci siamo, ciao Emanuele, che intanto io, perché bello per le persone che conosco, Lorenzo, che bello avervi tutti qui. Ciao Mattia, ciao Lorenzo. Intanto la gente arriva. Ah, oggi ci aspetto una bella chiacchierata, ci aspetto una bella, una bella, bella chiacchierata su la Gallia, sulla Gallia romana, su, si sente, si vede, perfetto, mi fa piacere, così non abbiamo i problemi che ho avuto l'altra live con Lorenzo. Allora, inizio con le presentazioni, anche se in realtà non è che sarebbero così necessarie, perché il nostro ospite in realtà è già venuto qui sul nostro canale. Allora, vabbè, io sono Giulio, collaboro con Gioele, qua con me ho con immenso piacere il nostro amico Giacomo, di Incontri di Storia, che oggi ci parlerà delle rivolte galliche, della Gallia romana del primo secolo, dopo Cristo ovviamente. Non parliamo della conquista gallica di Giulio Cesare, almeno la accenniamo ovviamente, però il nostro focus oggi è sul primo secolo dopo Cristo e su degli eventi particolari che molto spesso non sono approfonditi, ma che sono stati centrali per l'impero, diciamo, durante tutto il primo secolo. Lascio un attimo la parola al nostro ospite, che se no li parlo sopra, e prego Giacomo, a te la parola. Grazie per avermi parlato sopra tutto il tempo. Niente, vabbè, tre quarti della gente in chat sa già, mi conosce bene o male, quindi. Per gli altri, sono Giacomo, Carvus, del canale di Incontri di Storia, collega di quell'infame di Lorenzo dell'altro giorno. Beh, perdono subito gli insulti, molto bene, mi fa piacere. È sempre giusto insultare quelli pelati. Ah, così proprio, con cattiveria, dura e pura. Bisogna fare attenzione perché non si sa quanti scritti pelati abbiamo, bisogna fare attenzione qui. Comunque, mi fa strapiacere. Quindi, abbiamo detto, parliamo delle rivolte galliche del primo secolo. Tu vuoi farci qualche spoiler per iniziare così? Niente, piccoli spoiler. Abbiamo dei finti romani che si credono romani e si menano con ex finti romani. Gente che si proclama divinità. Tanto sangue, tanta morte. No, neanche troppa, dai. No, poca. Vabbè, ok. Allora, mi sa che non piacerà molto agli iscritti, visto che gli eventi di sangue piacciono veramente un sacco, ne sono sicuro. Abbiamo rivolte, abbiamo imperatori che appoggiano o cercano di reprimerle. Abbiamo divinità, come hai detto tu. Questa è una cosa che mi ha interessato moltissimo perché sono argomenti che sono accennati, almeno nei libri di storia universitaria sono accennati, almeno nel mio lo erano, però non sono molto approfonditi. Infatti io mi sono sempre domandato cos'è successo in questi anni, perché se per la prima rivolta, che adesso vedremo quando avviene bene o male, non è così tanto importante da un certo punto di vista, le altre, le successive tre, invece appaiono in un momento in cui Roma è in una situazione di grave difficoltà, in una situazione molto molto difficile. Subito dopo o appena prima della morte di Nerone, quindi quell'anno, anzi più o meno quei due anni che vedranno Roma insanguinata, che vedranno Roma divisa tra ben quattro imperatori. Quindi ci sarà l'anno dei quattro imperatori e queste rivolte avvengono proprio nello stesso periodo e sono in alcuni casi cruciali, giusto? Sì, più che altro trovo sempre divertente il fatto che in un secolo ci siano state quattro rivolte fondamentalmente e a parte una le altre tre sono avvenute lo stesso anno, praticamente negli stessi punti. Eh, interessante questo, perché vuol dire che la gente del luogo non aveva capito l'antifona, probabilmente. Va bene, va bene. Io sono Dio. Con una persona del genere è un po' difficile trattare. Si parlerà anche della rivolta di Batavi? Lo vedrai subito, perché sì, in realtà sì, ne parliamo un po', perché è necessario discuterne della rivolta di Batavi, altrimenti non si capiscono determinati eventi. Se contiamo anche la rivolta dei Batavi, siamo a cinque rivolte. Siamo a cinque, in effetti. Poi i Batavi, si potrebbe anche fare due, tre presentazioni solo su di loro, perché sono veramente importantissimi da un punto di vista storico per l'impero. Hanno dato ausiliari, soldati, alcuni dicono anche alcuni imperatori, tra virgolette, perché in realtà vengono considerati usurpatori, però i Batavi sono stati un popolo molto importante nei confronti dell'impero e hanno continuato a servirlo fino alla sua fine, perché le corti Batave sono rimaste anche nel Tardo Impero, quindi sono un popolo molto importante e anche in questo caso hanno giocato un ruolo cruciale con questa rivolta. Comunque faccio giusto qualche piccolo annuncio, visto che la gente ha chiesto, Gioele non so se ci raggiungerà per un saluto, purtroppo per voi sono io al comando oggi, ma vi invito comunque a mettere mi piace, iscrivervi al canale, potete attivare la campanellina e iscrivetevi al canale del buon Giacomo e del buon Lorenzo, che dopo ovviamente a fine live vi andrò a mostrare. Se avete domande scrivetele quando volete, noi cerchiamo di rispondervi sul momento, poi in caso se ci sono molte domande, casomai le salviamo e non preoccupatevi, cercheremo di rispondere a tutti. In caso, nell'eventualità in cui non riusciremo a rispondere, o vi sorgeranno domande successivamente, potete pure scrivere nei commenti, vi risponderemo, oppure venire a chiedere a Giacomo nel gruppo di Telegram della biblioteca o anche a scriverli, se volete, sotto i video che pubblicano i ragazzi di incontri di storia. Ma anche i Batavi erano albanesi, vero Giacomo? Giacomo, erano albanesi i Batavi? Allora, ci sono molte teorie a riguardo. Sull'origine dell'umanità. Una vuole che siamo tutti albanesi, un'altra che ho sentito vuole che siamo tutti veneti e che in realtà i veneti vengono dalla Scandinavia. Ah, complimenti. Io ho sentito una dove i sardi in realtà sono vichinghi e sono loro che hanno costruito poi tutti, quindi è fantastico, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire in questo mondo. E probabilmente anche Giacomo è albanese, dice Max. Beh, sei il progenitore di tutti noi, Giacomo, è vero? Sì, ovvio, siete tutti i miei figli, chiamami Daddy. Eh, va bene. Allora, partiamo intanto. Allora, le rivolte galliche, ovviamente con il nostro carissimo Giacomo. Cos'è questa immagine? Cosa rappresenta queste immagini che abbiamo davanti? Questo è il pilastro dei nauti, mi hai detto. E in rilievo c'è questa divinità che io evito di pronunciare perché sicuramente sbaglierei, che si chiama... Giacomo? Dai, ce la puoi fare. No, non credo. Cernumus? Cernumus? No. Cernumus. Cernumus, ok, perfetto. Ed è una divinità celtica, ma è una divinità di una tribù in particolare? È una divinità, diciamo... No, è una divinità panceltica. Panceltica. Sono state, per esempio, le sue raffigurazioni sono state trovate appunto nella Gallia Romana, ma anche nelle pitture rupestri della Val Camonica. Ah, quindi è una divinità di tutti i celti che era presente sia in Gallia che anche in Italia, mi stai dicendo, ma anche in Britannia in caso sono state trovate. Credo di sì, sì, credo di sì. Perfetto, perfetto. Ed era... Che tipo di divinità? Cioè era una divinità dei boschi, una divinità celeste? Allora, non è molto chiaro perché, a parte le immagini, le poche immagini che ha, che sono tutte uguali, tra l'altro, uguali o simili, non si sa molto. Il fatto che venga fondamentalmente raffigurato con le corna da cervo, con in mano un serpente di solito, e circondato da animali, sembrerebbe che fosse una divinità della natura, una divinità magari protettrice della fauna, dei boschi. D'altronde sappiamo che ci sono svariate divinità celtiche che erano semplicemente tipo divinità di una... o tipo regionali di una foresta, tipo Ardwinna, che aveva dato il nome alla foresta dell'Ardenne. Probabilmente era un dio selvatico simile a Silvano. Quindi sì, comunque rientra nel gruppo delle divinità, delle selve, dei protettori dei boschi, e quindi sì, visto che comunque alla fine tutti i popoli indoeuropei hanno comunque dei comuni denominatori, dal punto di vista anche religioso, così come esiste solitamente il dio celeste, esiste anche il dio delle selve. E in questo caso Cernunus dovrebbe essere associato a Silvano, o dovrebbe essere associato. Il dio celeste era Taranis, che era il dio del tuono, del fulmine. Non so perché a me viene in mente sempre Tutatis per la questione di Imperium, le guerre galliche, se non sbaglio. Tutatis però era il dio protettore della tribù in guerra, ed era assimilabile a Marte. Perfetto. Infatti esiste Marte Tutatis. Che è stata poi una fusione del culto di Tutatis e di Marte. Sì, 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 come Apollogrannos. Sì. Ce ne sono tante. Praticamente quasi una buona parte delle divinità celtiche maschili sono state unite, fuse con divinità romana, a parte Cernunnos inizialmente, e poche altre. Mentre quelle femminili in realtà sono rimaste quasi esclusivamente celtiche. Ah, interessante. Adesso comunque ne parliamo perché passiamo intanto alla prima slide sulla introduzione. Come potete vedere qui abbiamo tutti i vari punti che andremo a trattare oggi. Abbiamo quindi la Gallia del primo secolo dopo Cristo. Quindi com'è questa Gallia che è stata più o meno conquistata, che è stata sottomessa dalle legioni di Cesare, possiamo dire così, e poi come potete vedere tutte le rivolte, tutti questi tentativi indipendentisti o meno, perché in realtà non sono tutti tentativi di rivalsa dal punto di vista etnico. Cioè in realtà sono anche rivolte che partono per altri motivi, per motivi per esempio economici, motivi sociali, motivi religiosi potrebbero. Cioè quindi non è sempre una sollevazione dal punto di vista nazionalista, tra virgolette possiamo chiamarlo così, anche se in realtà parlare di nazione al momento non è proprio corretto. Ma ci sono varie motivazioni, quindi andiamo dalla rivolta del 21 dopo Cristo, che dovrebbe essere tra le prime, fino alla proclamazione dell'Imperium Galliarum, che però non è quello del III secolo. Attenzione, non è quello di Postumo, di Vittorino e Tetrico, ma è un Imperium Galliarum che lo precede, un Imperium Galliarum che viene proclamato proprio durante questo periodo, durante l'anno dei quattro imperatori, e che andremo ovviamente a esplorare con il nostro buon Giacomo. Ma io ho parlato fin troppo, ti lascio a te la parola, però la domanda è, com'è la Gallia del I secolo d.C.? Allora, la situazione nella Gallia del I secolo d.C. è molto complessa, nel senso che, allora, già di base la conquista di Cesare, più che una effettiva conquista inizialmente, era più una sottomissione, nel senso che lui, in tutte le tribù, considerato che molte non le ha neanche combattute, semplicemente arrivava, sconfiggeva quella parte di aristocrazia che non era pro-Roma e non era neanche antiromana o antiromana solo in parte, e la sostituiva con nobiltà pro-Roma. In questo modo ha creato tutta una serie di tribù vassalle, nazioni vassalle, che poi sono state assorbite in modo amministrativo nell'impero romano da Augusto, più o meno. Il fatto sta che noi, cioè il discorso è questo, la maggior parte della nobiltà gallica, che poi ha continuato a regnare per tutto il I secolo d.C. e anche dopo, viene chiamata la nobiltà Giulia, perché si chiamavano tutti Gaio Giulio. Perché avevano ottenuto la cittadinanza. Loro o i loro antenati avevano ricevuto la cittadinanza o da Cesare o da Augusto. Poi con Claudio c'è una nuova ondata di cittadinanza, ma questo è un altro discorso al quale arriverò fra poco. Più che altro, volevo farvi un esempio veloce di questa cosa, con un'iscrizione risalente alla seconda metà del I secolo d.C., che cita un Gaio Giulio Proculo, figlio di Gaio Giulio Magno, figlio di Gaio Giulio Eporedorix. Quindi possiamo dire che il primo poteva passare benissimo come romano, il secondo pure, e il terzo però, Eporige, dovrebbe essere la traduzione giusto? Sì, Eporedorige. Eporedorige, grazie. Invece si nota subito che c'è qualcosa di... Cioè, non è un vero e proprio romano dal Lazio, ma è un gallo romano, è un gallo che ha ottenuto la cittadinanza. Sì, anche perché se ci pensi, un Eporedorige, anzi due, sono citati da Cesare, come nobili. Uno come prigioniero, un altro come nobile degli Edui, che era quello che comandava la cavalleria Edua nella battaglia di Gergovia. E questa iscrizione appunto viene dal territorio degli Edui. Quindi probabilmente molti storici hanno pensato che fosse un di... Che questo... Cos'è? Com'è che era? Proculo. Che Proculo e Magno, eccetera, fossero discendenti appunto di questo Eporedorige, il cui nipote è Gaio Giulio Eporedorige, e poi ci sono tutti i vari figli. Tra l'altro addirittura Magno, forse sembra che non sia, secondo alcuni storici, non è neanche il nome latino Magnus, ma è il nome latino Mago, scusate, celtico Mago, che invece però è stato modificato per assomigliare a una parola, a un nome simile latino, ed è un sintomo comunque di integrazione e divergetismo. Anche a livello proprio di nomi. Mi viene in mente un altro esempio, questo qua invece è più che rivolto alla Gallia, è rivolto alla zona alpina, nelle Alpi Ecozzi, nelle Alpi Ecozzi, la presenza di questa popolazione che doveva essere una tribù celtica, e se non ricordo, mi correggerai se sbaglio, che è proprio Icozzi, che sotto Augusto la loro nobiltà ottiene la cittadinanza ed è famosa l'iscrizione sull'arco di Susa, che è stata in Piemonte, che è stata dedicata ad Augusto da Marco, in questo caso è Marco Giulio Cozzio, che era proprio questo sovrano di questa popolazione, che aveva ottenuto la cittadinanza. Lui aveva preso il nome di Marco Giulio, però comunque l'iscrizione è dedicata ad Augusto e sia il padre che il figlio vengono in ogni caso citati in documenti o vengono citati in testimonianze successive come entrambi appartenenti alla nobiltà che aveva ottenuto la cittadinanza proprio dai Romani, che alla fine possiamo dire è una moda, tra virgolette, una strategia, meglio forse, comune al mondo romano. Cioè ogni volta che si conquista un nuovo territorio la nobiltà, bene o male, viene incamerata all'interno della cittadinanza romana. Giusto? Sì, sì. I Cozzi comunque erano Celtoliguri. Celtoliguri, ok, perfetto, grazie. E passo avanti la prossima slide? Che dici? O volevi dire ancora qualcosa sulla cartina? No, no, quella dopo è sulle strade, quindi vai su quella dopo. Perfetto, ok. Allora, questa cartina, qui abbiamo la gallia del primo secolo, dei vari punti che adesso il nostro Giacomo ci parlerà, e c'è questa cartina che rappresenta le varie vie di comunicazione all'interno della gallia, possiamo dire, romana, e che partono, bene o male, dall'Italia, arrivano a Lugdunum, che a quanto pare era forse il centro più importante all'epoca, assieme ovviamente alle colonie romane sul confine e a Narbonarzius, e dalla quale poi partivano tutte le strade. Tu, se non sbaglio, hai fatto anche una tesi a riguardo delle vie di comunicazione al commercio nella gallia del primo secolo? Dovrebbe essere inerente a questo? Quello è un capitolo, in generale su tutta la romanizzazione della gallia, quindi appunto dalla storia politica, sociale, religiosa ed economica della gallia più o meno dall'epoca di Augusto fino alla fine del secondo secolo dopo Cristo. Comunque, allora, perché vi abbiamo voluto mettere una cartina con le vie di comunicazione? per due motivazioni molto semplici. Numero uno, per vedere come l'infrastruttura costruita poi dai romani sia basata sui confini, cioè sull'IME serenano. E il perché anche. E l'altra cosa, perché le vie di comunicazione, in quanto tali, hanno favorito in maniera estremamente ampia il giro di coloni, mercanti e merci dall'Italia alla gallia e viceversa e questa cosa ha appunto creato una forma di, possiamo chiamarla borghesia, mercantile in Gallia, oltre al fatto che il commercio è un vettore di romanizzazione, perché appunto trasporta gli usi, i costumi, i modi di mangiare, gli strumenti per mangiare in un determinato modo, gli ingredienti, porta tutta una serie di cose, come anche un esempio stupido, le tegole per costruire i tetti delle case. E questo è un esempio stupido che però è molto significativo, perché sono state fra le prime cose commerciate dai romani e galli ancora prima della conquista di Cesare. E soprattutto l'importanza economica che avevano alcune aree della Gallia, come per esempio l'istmo gallico e i fiumi e l'asse fluviale della Saone del Rodo. L'istmo gallico è quello che vedete fondamentalmente con la riga rossa nella mappa. Era il punto più stretto, vicino e diretto per poter trasportare merci dal Mediterraneo all'Atlantico. Su questa via è stata costruita a Tolosa. Sì, infatti vedo che più o meno a metà dovrebbe essere, forse un po' più, verso Narbo. Sì, esatto. E questa via si sviluppa anche sull'asse fluviale dell'Od e della Gronna. Mentre l'altra, che probabilmente era molto più importante, era l'asse fluviale, appunto come dicevo prima, della Saone del Rodano, perché permetteva un commercio fluviale dal Mediterraneo al nord Europa. Attorno a questa via fluviale è stata costruita all'inizio del primo secolo dopo Cristo, da Agrippa, tutto un insieme di infrastrutture stradali per favorire il passaggio di truppe e di merci via terra verso il Limes Renano. E questa via è stata quella che a tutti gli effetti ha portato il modello di vita romano e di cultura romano nel nord Europa, nel nord e nel centro della Gallia. Mentre Lugdunum, che è una delle poche colonie romane fondate nella Gallia Comata, la Gallia Comata sottolineo cos'è, è praticamente tutta la Gallia che non è la Narboniense, comprese le due Germanie, che le due Germanie in realtà inizialmente facciano parte della Gallia, però poi sono state staccate. Comunque Lugdunum era una delle poche colonie fondate nella Comata e era fondamentalmente la capitale delle tre Gallie, le tre Gallie sono Celtica, Quittania e Belgica. Qui si riuniva quello che era il Concilium Galliarum, ovvero il Senato delle Gallie, nel quale prendevano posto i più importanti nobili delle varie città della Gallia. C'era il Tempio del culto imperiale, a Lugdunum, e in generale un'altra cosa importante che dovevo dire prima ma mi sono scordato, che sono quelle cose che le civitates, hai visto cosa mi stavo scordando? Eh beh, sarebbe stato un po' un problema poi. Comunque, sul commercio mi l'ho unito qui perché altrimenti potrei parlare per due ore. Le civitates semplicemente quando la Gallia è stata divisa in province e amministrativamente è stata romanizzata, semplicemente i territori tribali sono stati trasformati in civitates, ovvero fondamentalmente quello che prima era un opidum rimane un opidum. Ogni tanto costruiscono qualche struttura simile romana con pietra e o marmo e diventa la capitale di una civitas. Per esempio, il fatto è questo, tutte le quelle che erano le tribù non smettono di esistere, continuano ad esistere in maniera assolutamente identica però invece di essere nazioni tribali dominate da un'aristocrazia guerriera e prevalentemente rurali piano piano diventano delle civitates governate dalla stessa aristocrazia che però da Gallica è diventata gallo-romana e da guerriera è diventata una la classica aristocrazia cittadina che come vi potete immaginare in qualsiasi città italica dell'antichità. Cioè succede una cosa possiamo dire simile a quello che succede per esempio nella Grecia dove le polis in realtà continuano ad esistere continuano ad esprimere le loro magistrature la vita alla fine diciamo continua semplicemente si cambia non si è più nel contesto di una Grecia divisa e in lotta perenne ma in una Grecia sotto dominazione romana dove non c'è più posto per l'oplita cittadino ma si passa semplicemente ad essere cittadini romani e la nobiltà si occupa per esempio della religione quindi si entra a far parte delle caste sacerdotali provinciali oppure si diventa ambasciatori a Roma quindi diciamo che succede una cosa simile possiamo dire una cosa del genere sì fondamentalmente succede praticamente la stessa cosa addirittura mi ha fatto venire in mente una cosa con il discorso delle cariche politiche tu lo sai sicuramente all'interno di una città romana la carica politica più alta nel corso sonoro un cittadino qual era? interrogazione oddio se non sbaglio c'erano quattro magistrati di cui dovrebbero essere due edili dovevano essere più o meno e due decurioni se non sbaglio i decurioni che poi facevano anche parte del senato locale e avevano erano diciamo ripartiti perché uno aveva competenze dal punto di vista giuridico interno altri sul contado possiamo chiamarlo della città quindi c'erano quattro cariche poi dipende perché se non sbaglio dipende molto da zona a zona anche da periodo perché ci sono per esempio problemi e problemi ci sono discussioni riguardo a quanti magistrati effettivamente aveva la colonia di Aquileia che però è molto antecedente però che per esempio presenta nelle iscrizioni epigrafiche tre magistrati se non sbaglio quindi però sì c'erano gli edili e questi decurioni che facevano le veci edili e decurioni nelle civitas della Gallia in realtà anche in quelle del nord Italia ovviamente non le colonie romane il titolo più alto a livello del cursus honorum cittadino era il vergobredo che vuol dire vergobredo la traduzione non la so semplicemente era una delle cariche politiche più alte anche delle varie nazioni galliche preromane ah ok quindi era una specie ma cos'era una specie di giudice anche in quel caso aveva era un governatore giudice sinceramente non te lo so ben spiegare e la cosa bella è che i vergobredi sono attestati perché nobili galloromani che finivano il cursus honorum eccetera hanno ritrovato svariate iscrizioni funerarie in stile in latino in stile perfettamente romano che però tipo vedi non lo so un cittadino romano postumo vergobredo di lugdumum e lì non si capisce bene cosa sia quella parola se sei un esatto e appunto i vergobredi sono attestati fino anche al quarto quinto secolo dopo cristo quindi una magistratura che prosegue nella tradizione amministrativa perfetto perfetto allora ci sarebbe una domanda del porco rosso che è venuto a farci visita e ha chiesto la gallia era davvero una landa sterminata di foreste e boscaglie o già i celti avevano iniziato a creare diciamo un'infrastruttura urbana cittadina e quindi i romani quando sono arrivati non hanno già trovato comunque un'infrastruttura dove impiantarsi oppure come ha detto prima era una landa sterminata dove non c'era praticamente nulla no allora era un territorio estremamente coltivato il fatto che la maggior parte della popolazione vivesse in campagna non significa che fossero foreste desolate anzi c'era una distribuzione più capillare degli insediamenti umani nel territorio già il fatto per esempio che più o meno la popolazione prima della conquista di Cesare era fra gli 8 e i 10 milioni e la conquista di Cesare in realtà non l'ha quasi c'è la diminuta di pochissimo quindi quei 2 milioni ucciso o milioni schiavizzato non sono assolutamente veri ovviamente come si sono numeri sono numeri che ovviamente fanno parte della propaganda che Cesare mandava a Roma sì 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 comunque il discorso era che appunto grazie a questa distribuzione capillare significa che c'era anche un'infrastruttura dietro molto sviluppata inoltre centri allora a livello di centri urbani intendendo un centro urbano in chiave di urbanistica vera e propria e archeologica snì nel senso che erano centri pseudo urbani o proturbani nel sud grazie agli influssi greci italici mentre nel nord c'erano centri ci sono sviluppati fra la fra la seconda metà del secondo secolo avanti cristo più o meno e tutto il primo secolo avanti cristo iopida che erano centri proturbani perché fondamentalmente erano delle città non città è difficile da spiegare erano delle città che non riscontravano tutta una serie di prerogative che invece riscontrano le città nel termine proprio cioè rappresentavano più delle fortezze delle roccaforti che avevano una funzione diciamo più militare che civile potrebbe essere quella forse la la discriminante tra le diciamo le città del meridione è che è che se ci pensi può è che semplicemente tipo non è che era tutto era tutta una città con i quartieri sparsi un po' a caso non aveva per esempio un centro in cui c'erano gli edifici pubblici in quel senso proturbana ah erano con l'ingomerati di villaggi giusto erano villaggi che si riunivano però che non avevano ancora una un'infrastruttura amministrativa come quelli invece che come per esempio i romani e i greci cioè avevano era un primo tentativo la cosa bella è che poi nella gallia romana molte opi alcune vengono abbandonate ma la maggior parte continuano ad esistere fino alla fine dell'impero o giù di lì e rimangono quasi invariate con la differenza che a un certo punto compare un teatro a un certo punto compare un foro o un senato così però sempre in maniera sparsa mentre le città che sono state rifondate per esempio la la nuova capitale degli edui che è Argentoratum mi pare che si chiami Argentoratum sì o la nuova capitale degli arverni che è Augusto dunum città che vengono rifondate poi in seguito diventano colonie come Augusta Treviri e colonia grippina quelle era bello perché la parte centrale dove potevano viaggiare dei cittadini romani di origine italica che magari andavano in visita alla città quella parte lì il centro era fatto come una città romana quindi con una griglia stradale strutture in pietra in marmo strutture pubbliche e un ordine urbanistico mentre il resto della città dove probabilmente un cittadino romano non avrebbe mai messo piede erano ancora inizialmente capanne che poi piano piano sono state ricostruite in pietra e tutto però con nessun tracciamento stradale relativamente caotico e così via capito capito comunque dire di andare avanti sì ti fanno giusto una domanda adesso Michele chiede in Francia venerano Vercingetorige il comune della resistenza contro Roma voi cosa ne pensate se posso provare a rispondere un attimo io il mito di Vercingetorige Michele nasce in un contesto romantico quindi siamo durante la seconda metà dell'ottocento e se non sbaglio già sotto Napoleone III avviene questa riscoperta delle radici celtiche dei francesi ma è come per Boudicca o Arminio o per noi gli stessi romani cioè nel senso le popolazioni moderne vanno a scavare nel loro passato in un momento in cui possiamo definire di gloria un momento di lotta di resistenza contro invasori cioè per esempio noi abbiamo più il mito del risorgimento quindi abbiamo Garibaldi abbiamo la vedetta i mille e per i francesi invece la lotta la resistenza contro l'invasore per esempio era incarnata più da un verci gettorice per esempio così come per i tedeschi un Arminio o per i britannici per la Gran Bretagna una Boudicca quindi non è proprio una venerazione poi a parte che adesso non credo che sia venerato o non sia molto considerato da quel punto di vista certo e comunque fa parte della loro storia quindi viene in ogni caso ricordato così come noi per esempio ricordiamo Giulio Cesare ricordiamo gli imperatori romani ma secondo me è una cosa che è nata ed è morta nel contesto dell'ottocento e primi del novecento perché ovviamente poi tutto il nazionalismo ha continuato fino ovviamente a qualche tempo fa adesso non credo che ci sia ancora un forte sentimento celtico in in Francia però sì quello è il contesto in cui avviene questa riscoperta delle radici celtiche francesi che poi ovviamente è una gran panzana perché in realtà i francesi così come i italiani i germani non possono essere identificati con un unico popolo progenitore però non iniziamo questo discorso perché se no non finiamo più andiamo avanti comunque tu hai detto è una gallia partizialmente romanizzata cito giusto i punti che abbiamo segnato la nobiltà è cittadinanza da varie generazioni quindi abbiamo la nobiltà Giulia un'urbanizzazione in corso più sviluppata nel sud meno sviluppata nel nord una presenza militare romana comunque ma è una presenza militare ristretta alla zona del reno mentre una presenza invece civile potremmo chiamarla così coloniale nel sud nella narbonese c'è ancora una forte presenza druidica e di questo ne parleremo ma ci sono anche dei malumori e questi malumori provocano la prima rivolta questa prima rivolta che scoppia durante il regno di Tiberio dal 21 al 23 durante il Tiberio e questa rivolta però non è una rivolta indipendentista ha altre motivazioni cosa ci dici di questa prima rivolta che vede coinvolti le tribù dei treveri degli edui quelle stesse tribù che tu prima hai detto sono state fortemente influenzate da Roma giusto? sì allora questa è la prima rivolta del primo secolo dopo Cristo ovviamente nel primo secolo avanti Cristo ce ne erano state alcune sotto Augusto però quello è un altro discorso queste sono importanti allora prima di tutto questa rivolta fu guidata da Giulio Floro nobile dei treveri e Giulio Sacrovir che era un nobile degli edi è stata è una di quelle che è durata di più fra tutte quelle delle quali parliamo e oltre a questa è stata una rivolta estremamente grande secondo Tacito perché secondo Tacito insieme a loro 60 allora in totale 64 comunità celtiche nel senso di civitate quindi 64 civitate galliche insieme ad alleati germani si ribellarono ma non era una guerra indipendentista non c'era nessun sentimento di indipendenza anzi era una rivolta a causa delle tasse il più vecchio motivo del mondo praticamente perché se la gente si deve ribellare è per le tasse solitamente ancora prima dell'indipendenza solitamente esatto quindi una rivolta una rivolta per motivi diciamo economici più o meno quindi non è una rivolta per motivi economici e del fatto che i romani eh sì romani buonasera i galli si sentivano fondamentalmente prevaricati dai governatori il fatto sta che qui abbiamo un cito testualmente tacito che queste rivolte furono causate appunto da perpetui tributi usuro-oppressiva la crudeltà e l'arroganza dei loro governatori questa citazione di tacito dagli annali che è praticamente la stessa motivazione per la quale ci fu la rivolta giudaica non negli stessi anni successivamente nel cos'è 67 66 fino al 70 è finita no è finita nel 68 69 se non ricordo male no nel 69 è finita nel 69 e poi c'è Masada nel 70 però che è l'ultima roccaforte del 08 sì sì quindi alla fine comunque è la motivazione per la quale si rivolta solitamente la diciamo i territori romani cioè non sono tentativi indipendentisti non adesso almeno ma sono motivazioni economiche e quindi però è particolare il fatto che siano stati proprio i treveri edui cioè proprio gli alleati gli alleati più fedeli di Roma e possiamo dire anche gli alleati più fedeli di Cesare più o meno perché ci sono stati dei momenti gli edui erano gli alleati più fedeli di Cesare il fatto è che comunque gli edui a un certo punto anche loro si sono nominalmente uniti alla rivolta di Vercingetorige ma in realtà hanno fatto più lavoro per Cesare che per altri cioè però come abbiamo scritto assume i connotati di una guerra civile perché in realtà non è una sollevazione di tutta la tribù ma di una parte della tribù giusto? sì allora piccolo appunto allora prima non mi ricordo come ho chiamato la capitale degli edui è Augusto Dunu non mi ricordo come l'ho chiamata Argento Dunu forse Argento Argentoratum Argentoratum è Orlean mi pare sì dovrebbe essere sì forse sì dovrebbe essere quella Argentoratum è Orlean sì quindi Augusto Dunu comunque allora il discorso è questo la cosa bella è che nonostante 64 cività tescomunità si siano ribellate insieme ai germani si sono prendete la rivolta in parte si è azzoppata da sola perché allora intanto prima di tutto c'è da dire una cosa Sacrovir che era l'eduo non si è ribellato per conto di tutta la tribù ma solo di una parte fatto sta che nel 23 ha occupato Augusto Dunum che era la capitale degli edui e ha preso in ostaggio le famiglie cioè i figli di molte famiglie nobili degli edui per fondamentalmente usarli come leva per la rivolta nello stesso anno Floro viene ucciso viene sconfitto e mi pare ucciso dal suo rivale all'interno di Treveri che si chiamava anche lui Giulio Indo quindi è una rivolta che era alleato di Roma e infatti poi ha preso il comando dei Treveri e i Treveri hanno voltato le spalle alla rivolta capito quindi è una rivolta che però dura molto ma a un certo punto si spegne praticamente da sola perché sì più che altro è che Roma era in parte andata nel panico perché una sollevazione perché 64 civitate 64 tribù sono tante e c'è stato del panico a Roma perché pensavano che vincessero e poi scendessero e saccheggiassero l'Italia perché i romani la paura del sacco di Roma non ce la sono mai tolta veramente come motivazione la citano anche i senatori contro l'editto di Claudio di aprire le porte al senato romano ai senatori gallici citano il sacco di Roma sì e poi non bisogna dimenticare che comunque la presenza militare romana in Gallia in quel periodo è comunque diciamo ridotta cioè ridotta al confine Renano no praticamente non c'erano il fatto è questo le legioni erano solo sull'reno esatto il resto della Gallia non c'era non c'era presenza romana sono governatori e coloni contingenti probabilmente di piccole dimensioni nelle città però niente di piccole dimensioni però ti dico nel 15 avanti Cristo Augusto ha tolto definitivamente le legioni dalla Gallia portandole definitivamente sull'imes nel 15 avanti Cristo l'ha fatto perché gli anni prima aveva sedato delle rivolte capito ed è anche forse una delle più grandi dovrebbe essere sì questa è decisamente una delle più grandi se non la più grande e domanda oh domanda di Michael M spero di aver pronunciato bene il tuo nome vabbè dopo la conquista romana cosa successe alle pratiche religiose celtiche galliche venero abolite o lasciate è proprio un argomento che vogliamo trattare durante questa piccola lezione cosa ci dici Giacomo delle pratiche religiose come puoi adesso aspetta la prossima che passiamo è la rivolta di Giulio Vindici direi se aspetti giusto dopo questa ne parliamo perché c'è la rivolta del dio gallico praticamente che adesso mi sfugge un attimo per un secondo il nome Maricus eccolo e lì ne parliamo ne parliamo veramente subito quindi dopo quindi questa rivolta del 21 e del 23 abbiamo una rivolta nel 68 e da qui sarà praticamente una festa continua per i galli con la rivolta di Gaio Giulio Vindice chi è? quella è una delle più divertenti ed è anche una è brevissima allora Giulio Vindice era un nobile gallo dell'Aquitania ed era proprietore della lugdinense quindi comunque era una figura molto molto importante perché era il proprietore della capitale della della Gallia e proprietore è una carica militare quindi aveva anche il comando su truppe romane ausiliarie ma probabilmente ausiliarie soprattutto ma comunque era cittadino quindi allora il fatto sì erano sicuramente truppe ausiliarie comunque lui cosa ha fatto si è ribellato contro Nerone ed è stato quello che fondamentalmente è andato da Galba e gli ha detto forse dovresti essere te imperatore e gli ha dato il controllo del suo esercito poi è stato ucciso poco dopo però ha fatto la fortuna ha fatto la fortuna di Galba sì è stato è stato fondamentalmente è stato uno di quelli è stato quello che ha dato la spinta finale a Galba per fargli prendere il potere e far iniziare l'anno dei quattro imperatori poi perché sì perché poco dopo c'è la morte di Nerone e Galba viene nominato viene riconosciuto dal senato come nuovo imperatore ed è interessante anche il fatto che questo dal punto di vista perché voi lo sapete io sono un fanatico della numismatica la prima moneta che vedete qui questa rappresentante Marte con le insegne romane in realtà è una moneta che viene coniata proprio dai dai ribelli dai ribelli gallici celtici di Vindice e da un lato abbiamo sul fronte abbiamo Marte ultore quindi Marte vendicatore così lo si può riconoscere anche dal tipo di elmo in realtà e dietro abbiamo le signa e qui è andata un po' perduta dovrebbe esserci una P che erano PR signa quindi insegne del popolo romano quindi è una rivolta però non è una rivolta indipendentista anche in questo caso ma è una rivolta che vede i galloromani supportare in questo caso un pretendente al seggio imperiale non è una rivolta dal punto di vista nazionalistico di nuovo etnico ma è sempre da un punto di vista di potere economico è sempre quello la motivazione almeno fino ad adesso per la quale si sollevano queste popolazioni questi questi uomini e motivi politici ed economici anche solo se pensiamo che molta della nobiltà gallica si è volutamente schierata con Cesare per motivazioni economiche ma però una cosa diciamo c'è una nota divertente sulla fine di Vindice perché a quanto pare in realtà lui stava vincendo praticamente la sua tra virgolette guerra in in Gallia ma poi succede l'impensabile cosa succede Giacomo no ascolta non se la faccio non ridere quando se la racconto provo a raccontarla io però non mi ricordo più il nome del suo della persona contro cui combatteva comunque Vindice sta trattando contro un altro governatore romano se non sbaglio dovrebbe essere della Germania dovrebbe essere comunque delle truppe stazionate sul confine Renano trattano una tregua e le truppe romane sul Reno decidono di tra virgolette fare entrare Vindice in una loro città non ricordo se era Magonza o se era Colonia comunque Vindice entra in questa città soltanto qual è il problema è che non si sono capiti bene quindi quando vedono le truppe di Vindice entrare alcuni soldati ammazzano Vindice perché non avevano capito che in realtà stavano trattando una tregua ma avevano capito che in realtà il loro generale li aveva venduti e quindi loro per vendicare se uccidono Vindice sul momento e la rivolta si spegne così cioè nel senso Vindice per un errore di traduzione o un errore di comprensione letteralmente viene ammazzato e la sua rivolta va in fumo anche se diciamo in realtà il suo compito è quello di aver dato l'esercito a Galba quindi ha successo quel lato ma la sua rivolta personale la sua guerra personale viene sedata per questo errore di comprensione di questi soldati che non hanno capito bene cosa dovevano fare e quindi hanno ammazzato il comandante il comandante della rivolta comunque si era la Germania superiore il governatore era Lucio Virginio Rufo e la città era Besançon Besançon perfetto grazie grazie per avermi corretto perché Besançon si dovrebbe essere in Francia in Francia perfetto perfetto comunque si una fine diciamo non degna per un personaggio che in realtà ha aiutato molto Galba nonostante il regno di Galba sia stato diciamo abbastanza breve ma comunque è stato abbastanza importante passiamo quindi poi alla rivolta di Maricus quindi questa rivolta che va dal 68 al 69 dopo Cristo ed è invece una rivolta questa indipendentista giusto o ho sbagliato allora quella di Maricus è l'unica rivolta indipendentista celtica che abbiamo in che senso indipendentista celtica letteralmente Maricus era un uomo probabilmente di umili origini anzi quasi sicuramente di umili origini dei boi che per motivi non del tutto chiari ma probabilmente perché la sua famiglia si era stanziata in Gallia dopo la migrazione degli Elbezi comunque lui nel 68 si proclama liberatore dei Galli campione della Gallia e divinità così per una persona molto umile da quello che traspare dall'informazione moltissimo e quindi cosa combina questo dio dei Galli praticamente questa semidivinità fondamentalmente cosa fa riesce a mettere su un esercito di 8000 uomini e comincia a saccheggiare i territori degli Edwi continuando appunto a fare propaganda sono dio sono liberatore fanculo Roma fondamentalmente letteralmente penso che i toni siano stati quelli e no semplicemente gli Edwi che non volevano minimamente uscire da Roma hanno formato un'armata hanno preso alcune corti spedite in aiuto da Viteglio hanno sconfitto Maricus nel 69 e lo hanno condannato a morte la cosa più divertente è stata che lo hanno tirato in un anfiteatro per farlo uccidere da bestie feroci ma è riuscito a sopravvivere il pubblico che vedeva tutto questo che erano bene o male tutti i galloromani cominciavano a credere veramente che lui fosse un dio e che fosse invulnerabile però a quel punto è arrivato Viteglio che ha detto uccidetelo e lo hanno messo a morte e quindi il suo mito è finito lì ah povero Maricus rimarrà rimarrà nei nostri cuori purtroppo non è nata una religione subito dopo su tale Maricus incredibilmente però diciamo che potrebbe avrebbe potuto nascere dopo una cosa del genere mi sa mi pare che qualche settimana fa di Europa Antica ne abbia discutto si aveva fatto una battuta che era qualcosa tipo nel primo secolo c'era la moda dei dei martiri delle divinità che si sacrificavano per il bene dell'umanità peccato che abbiamo avuto Gesù e non Maricus è arrivato prima in realtà è arrivato prima quindi c'è poco da fare e Maricus è arrivato in ritardo doveva provarci prima a fare la rivolta se no forse sarebbe andata in maniera diversa doveva nascere un attimo prima comunque qui potete vedere ho messo una mappa sui movimenti dei boy anche se in realtà come mi ha spiegato Giacomo è una cartina un po' cioè non è del tutto giusta perché non si sanno precisamente i movimenti di queste popolazioni non è che abbiamo le cartine che usavano all'epoca quindi però bene o male sappiamo più o meno le posizioni di questa popolazione anche se in realtà in Italia tu mi avevi detto che forse non erano esattamente loro erano un'altra tribù se non sbaglio no perché allora perché allora praticamente la colonizzazione celtica dell'Europa che avvenne fra il fondamentalmente quella lateniana lateniana fra il la metà del quinto e il l'inizio del terzo secolo avanti Cristo era composta da non tribù intere che migravano ma ma solo alcune parti in un modo molto simile quasi identico a quello che era il versacrum per gli umbri ah si la primavera la primavera sacra dove quando erano troppi prendevano i giovani li mandavano a morire praticamente esatto non si sa se allora la questione dei celti è un po' più complessa perché ci sono veramente poche prove e poche testimonianze però fondamentalmente ci sono due modi per cui le popolazioni celtiche si muovevano una era proprio una cosa simile al versacrum ovvero uno spostamento di civili e guerrieri assieme che si andavano a stanziare in una zona con l'intento di stanziarvi ci e basta oppure c'è anche la versione come per esempio quella che ha creato i Galati in Turchia per fare un esempio di bande guerriere con al seguito anche le famiglie che in seguito a migliaia di chilometri percorsi a saccheggiare a un certo punto decidono di stanziarsi in un posto capito e una delle cose che la colonizzazione gallica appunto nel quinto e quarto secolo c'è una parte che attraversa le Alpi viene in Italia e una parte che segue il Danubio e noi non sappiamo se i boi che questi erano stanziati nel Danubio venivano inizialmente dall'Italia scanzati dai Romani o se erano già lì perché era una parte della tribù originale perché noi per esempio sappiamo che ci sono i Senoni in Italia ma i Senoni erano anche in Francia il fatto sta che la Senna prende appunto il nome dai Galli Senoni capito domande alcune domande che sono sorte allora la prima domanda tribù ci sono stati casi in cui le tribù britanniche in questo caso hanno invaso la Gallia o è stato fatto diciamo viceversa cioè i Galli si sono mossi verso la Britannia allora no i Galli si sono mossi verso la Britannia ok perché io mi ricordavo dalle testimonianze di Cesare che c'erano stati casi in cui i nobili gallici si erano trasferiti in 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 Britannia e lì praticamente avevano stabilito dei nuovi tra virgolette regni dei nuovi domini appartenenti a però popolazioni che erano di origine gallica che siano poi trasferite da quello che ricordo si c'è più che altro lì è molto molto complesso perché la colonizzazione della Britannia da parte delle popolazioni proto-celtiche e celtiche è avvenuta anche quella nell'arco di svariati secoli ed è molto molto complesso sicuramente nel primo secolo avanti Cristo ai tempi di Cesare c'erano i celti avevano già preso quasi tutte le isole britanniche che dei nobili dalla Gallia si siano trasferiti in nel sud dell'Inghilterra e abbiano creato fondamentalmente delle comunità nelle quali magari visto il loro denaro visto il loro prestigio in Gallia comandavano o facevano comunque parte di un senato tribale è probabile è molto possibile perfetto poi mi hanno chiesto la lingua parata dai celti prima dell'arrivo dei romani ma presumo che sia comunque un insieme fossero tanti dialetti perché non credo che parlassero allora c'è la differenza fra gallico continentale gallico insulare e così via però diciamo che c'è una lingua gallica continentale al cui interno ci sono dei dialetti regionali però noi sappiamo che non solo questa lingua ha continuato ad essere parlata all'interno dell'impero romano fino alla caduta dell'impero ma sappiamo che era anche molto simile molto simile perché noi a parte cose identiche anche nei nomi cos'è sant'eusebio no quello che ha fatto i commentari ad epistola i commentari alle lettere dei galati ah ai galati no quello è san paolo dovrebbe essere no no i commenti ah i commenti ah scusa i commenti oddio al momento mi prendi mi prendi un attimo non saprei adesso ti dico subito però comunque intendi ecclesiatici San Girolamo San Girolamo sì 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 scusate San Girolamo parlando dei galati della Turchia dice che che scrive nel quinto secolo quinto o sesto secolo non mi ricordo parlando dei galati della Turchia dice che parlano la stessa lingua dei treveri ah quindi lingua comunque celtica però era intercambi cioè nel senso si capivano tra di loro quando parlavano sì sì probabilmente si capivano molto probabilmente si capivano perfetto terza domanda chiede sempre Michele ha fatto la domanda visto che nel senato dopo la conquista della Gallia c'erano senatori galli questo ovviamente presumo dopo Claudio intenda quale regione sotto Roma aveva più importanza di altre? cioè c'era una zona della Gallia che era più importante di altre? io mi sono fatto un'idea ma da un punto di vista prettamente numismatico perché l'ho studiato e direi la zona di Lugdunum principalmente e poi ovviamente l'Imes Renano perché è la base però io posso dirti almeno da quello che so io Michele che la zona di Lugdunum era molto importante perché lì c'era una delle poche zecche dell'imperatore che coniava oro e che veniva spedito poi queste monete d'oro venivano spedite nella capitale poi successivamente se non sbaglio se non vorrei sbagliare sotto o Caligola no sotto Nerone dovrebbe essere la zecca viene spostata a Roma e viene tolta però prima prima era stata molto importante probabilmente fu importante sotto di Giulio e Claudi lo fu anche successivamente perché Lugdunum fu comunque una città centrale nella zona della Gallia meridionale però lascio a Giacomo se ci sono altre zone più importanti forse di questa Lugdunum no allora Lugdunum era il fulcro di tutto ciò che era trasporto commercio e passaggio di merci e persone non solo della Gallia ma di tutto l'occidente romano a parte ovviamente in parte la Spagna perché ovviamente è un po' più spostata però dall'Ugdunum passavano tutte le merci tutte le truppe tutti i migranti qualsiasi cosa che da la Spagna l'Italia e in generale dal resto del Mediterraneo andavano verso il nord della Francia la Germania e l'Inghilterra passava tutto dal di lì quindi era un centro veramente veramente importante oltre ad essere appunto la capitale delle tre Gallie il centro del culto imperiale e del senato delle Gallie e oltre ad essere anche un centro di produzione estremamente grosso poi come dicevi te appunto la zecca e quant'altro detto ciò volevo aggiungere una cosa altre zone di importanza quindi potremmo comunque poi c'è l'imes come dicevi te e appunto anche la zona della Narbonense perché comunque era il posto dove c'erano più colonie latine anzi ecco ecco mi sono ricordato quello che volevo dire in Gallia Comata che la Gallia Comata è tutta quella che non è narmonense colonie latine o romane fondate durante l'impero dopo la conquista 4-5 forse poche di più e l'altra cosa che volevo dire importante sul discorso dei senatori Gallia Roma in realtà nonostante ci sia stata sotto Claudio questa apertura la quasi totalità di aristocratici della Gallia e senatori del concilio in Galliarum in tutta la storia dell'impero si sono rifiutati di andare a Roma non gliene fregava assolutamente niente di andare a Roma i senatori che sono andati a Roma se ne contano circa sulle dita di una mano o di due non di più nell'arco di 400 anni capito ti stoppo giusto un attimo che è passato a salutarci Gioele quindi ciao ciao Gioele grazie grazie mille per essere passato spero che ti piaccia domani la live quando te la recupererai ecco perfetto e poi c'era ancora una domanda forse forse l'ho schivata fammi controllare un attimo giusto c'era quella delle divinità ecco il ruolo dei druidi il ruolo della religione visto che parliamo proprio di uno che si è praticamente proclamato dio dei celti cosa sappiamo dei druidi delle usanze religiose ovviamente dopo la conquista umana perché precedentemente ovviamente c'era la libertà per i druidi di muoversi di essere era forse il fulcro della vita dei galli ma dopo l'arrivo dei romani cosa succede? allora è molto allora è un discorso abbastanza complicato ho scritto anche questo nella tesi e bla 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 adesso allora perché il discorso e bla 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 esatto allora il discorso è complicato per un semplice motivo noi abbiamo fonti fonti antiche che riguarda la questione dicono cose diverse come sempre come sempre sì il problema è che dicono cose che non c'entrano l'una con l'altra perché noi abbiamo Svetonio che ci dice che inizialmente Augusto ha vietato tutti i cittadini romani di prendere parte ai rituali druidici e poi Claudio ha abolito definitivamente tutto ciò che erano rituali druidici e quindi considerato che era una religione che si basava prevalentemente sulla sulla cultura orale ed anche sul su una forte ritualità se vuol dire che praticamente cessa di esistere quindi secondo Svetonio bene o male i druidi smettono non di esistere ma perlomeno di avere senso e ragione di esistere sotto Claudio secondo Plinio il Vecchio invece è stato Tiberio a bandirli proprio a bandire i druidi proprio la loro esistenza costringendoli a fuggire in Britannia che infatti poi continuerà dicendo che la Britannia dopo che sono sfuggiti i druidi è diventata un'isola di magia nera non sto scherzando non so cosa si prendesse Plinio Plinio è lo stesso che va a morire nel vulcano quindi diciamo tutto a posto non era visto che mentre tutto brucia tutti muoiono tra Pompei e Ercolano lui è l'unico che prende la flotta e ci va sotto il vulcano quindi diciamo che era un po' particolare Plinio il Vecchio almeno in questo caso esatto comunque il discorso è che noi abbiamo due fonti che danno due versioni completamente diverse in più ne abbiamo una terza che ne dà una completamente diversa ulteriormente che è Tacito che e su questo poi ci arriveremo infatti fra due secondi perché è la prossima slide che nella rivolta del 69 i maggiori promotori furono i druidi che però se noi ascoltiamo Plinio o Svetonio nel 69 i druidi non ci sarebbero più dovuti essere oppure alla peggio c'erano ma non contavano niente capito però qui noi invece abbiamo i druidi che nel senato delle gallie fomentano cioè non scusate nel senato delle gallie nel senato degli edui fomentano la rivolta che c'è nel 69 interessante però non è neanche l'ultima informazione però che abbiamo che però è archeologico quindi in teoria dovrebbe significare di più noi abbiamo il calendario di Coligny che è del secondo secolo che è un calendario con celtico puramente celtico e questo però è indicativo sul fatto che con tutta probabilità è rimasta alla fine cioè non è stata spazzata via completamente questa questa cultura questa no il fatto è che chi ha scritto il calendario di Coligny conosceva molto molto bene la religione gallica forse troppo per il discorso dell'aver bandito i druidi perché oltre ad esserci segnati tutti i nomi dei mesi e quant'altro in lingua gallica ci sono segnate le feste religiose galliche abbiamo le i dieci giorni di grannos abbiamo il trinoxtia cos'era samoni che è halloween le tre notti di samonios si si capito capito quindi con tutta probabilità rimase comunque il sostrato celtico e druidico rimase comunque che siano stati eliminati o no qualcosa deve essere pur rimasto per aver diciamo prodotto poi è rimasto anche solo in poche famiglie sottolineando che a quel punto nel secondo secolo considerato che già da prima della conquista i druidi erano bene o male tutti i nobili significa che la nobiltà romana nonostante gli fosse vietato di intraprendere la via druidica probabilmente qualche nobile gallo romano è rimasto come è rimasto druido comunque però queste sono tutte speculazioni tutte in forse capito vabbè per quanto riguarda le divinità ce ne sono veramente tante ce ne sono troppe posso citare dei nomi a caro tipo Bormo il dio delle acque termali il cui nome lo ritroviamo ovunque in Italia in Francia in Germania Worms Worms è Borbetomagus che vuol dire il mercato di Bormo il nome Borbone deriva da Bormo perché c'era la zona del Borbon cioè la zona della Gallia Meridionale dovrebbe essere che va da Acque Bormonis o Borbon abbiamo Belenos che era la zona della luce ma poi i Belenos giusto per curiosità ad Aquileia era un centro importantissimo per il culto di Belenos ci sono attestazioni anche durante la crisi del terzo secolo e quindi continuò il culto di Beleno anche in zona italiana perché alla fine Aquileia faceva parte dell'Italia e anche lì ci sono testimonianze abbiamo Esus che in realtà non si sa molto molto bene il suo ruolo non si sa se Esus è solo gallo romano ed è fondamentalmente l'interpretazione l'umanizzazione l'antropomorfizzazione dell'albero della vita perché in alcune delle rappresentazioni in cui c'è è intento o a tagliare un albero e quindi semplicemente tipo sarebbe il significato dell'albero che viene abbattuto e muore in inverno per poi rinascere in un ciclo vitale sì una divinità comunque naturale una divinità comunque che rientra nel contesto naturale della foresta tipo nel pilastro dei nauti se non ricordo male viene rappresentato con il insieme al toro che il toro era un altro tarvos toro con tre corna toro con tre corna sì tarvos tre qualcosa adesso mi ricordo come si chiama che era un altro un animale divinizzato che anche quello rappresentava la vita la fertilità molto è molto molto complesso perché poi esiste anche la trinità celtica come anche i romani avevano la trinità capitolina la trinità plebea avevano anche loro rappresentavano esatto il problema di questa trinità è che non è molto chiaro perché non si sa se la trinità sia Lug stesso cosa che in realtà è abbastanza probabile oppure la trinità è Esus oppure la trinità è Lug ed è formata da Taranis Tutatis ed Esus è un casino non si sa non si saprà mai probabilmente rispondo velocemente a Lorenzo divinità ctoniche sì tante anche perché i celti credevano di essere i discendenti del dio della morte complimenti erano mette alla schifo loro pensavano che per loro il giorno iniziava il tramonto complimenti l'anno iniziava all'inizio dell'inverno loro erano figli qui cito Strabone che parla dei Celtiberi e dei loro cugini del nord che ogni notte di luna piena fanno dei grandi fallò e danzano tutta la notte in nome del loro dio senza nome che fa molto Lovecraft una roba del genere in realtà c'è Cesare che dice che i Celti credono di scendere dalla loro versione di Dispater e molti storici archeologi moderni che hanno che c'è ancora è ancora aperta la discussione che molti si scanano sulla vicenda adesso un po' meno però secondo Simone ed altri questo Dispater dio senza nome eccetera è su Kellos che nella che è praticamente nella nella religione gallo per lo più viene affiancato a Vulcano per il semplice motivo che entrambi avevano una clava cioè avevano un martello però in realtà non si sa anche in questo caso non si sa però è molto molto probabile che appunto questo dio fosse su Kellos anche perché anche nelle rappresentazioni gallo romane ha molte rappresentazioni relative che nella religione celtica erano considerate affini al mondo dei morti o indossava una pelle di lupo o era insieme a dei lupi il martello è il martello della buona morte della mitologia britannica a livello iconografico assomigliava molto al caronte etrusco ma se ci pensi la questione del martello è presente anche sui gladiatori se non sbaglio la figura che veniva a dare il colpo di grazia ai gladiatori era questa figura che possedeva praticamente una specie di martello se non sbaglio era comunque collegata adesso mi è venuta in mente una cosa molto particolare questo spero che ci sia comunque un ragazzo sardo che se non lo avevo notato prima che c'è nella cultura sarda questa figura di questa donna vestita di nero che veniva chiamata per dare praticamente per come posso dire il colpo di grazia a coloro che stavano soffrendo i moribondi ed è una cosa molto particolare che fa parte della cultura sarda se non sbaglio me ne avevano parlato quando ho studiato dell'Edda a scuola e ritorna anche in questo caso la questione del martello come strumento della morte della buona morte alla fine se non ci sono domande io passerei all'ultimo slide penultima la rivolta batava la penultima perché poi abbiamo l'imperium gagliarum e poi le conclusioni quindi rivolta batava però i batavi in realtà non sono celti prettamente i batavi sono germani a proposito sempre del discorso Gaio Giulio Civile sempre nobile romano comunque di origine batava che comandava appunto come molti nobili delle aree renane che hanno ricevuto la cittadinanza comunque che di famiglia non sono non erano cittadini romani ed altro comandavano dei reparti ausiliari irregolari nei momenti quando non dovevano magari fare delle campagne o altro nei momenti di campagna ovviamente era più regolarizzata la cosa in ogni caso la rivolta batava non si capisce molto bene da che motivazioni sia stata spinta perché sembra di vendetta perché sia civile che il fratello furono arrestati nel all'inizio del 68 mi pare con l'accusa di tradimento ma non era vero sono stati liberati però il fratello cos'era morto robe del genere il fratello Paolo se non sbaglio dovrebbe essere Caio Giulio Paolo che era stato messo a morte in realtà o forse muore civile per vendetta unita alla voglia di indipendentismo e odio contro Roma fa partire questa rivolta che inizialmente ottiene anche svariati successi per esempio catturano la flotta romana distanza sul Reno distruggono due legioni che se ci pensate due legioni più un'intera flotta qui dall'altra 70 anni prima c'era stata Teutoburgo con tre legioni non è che i numeri sono così tanto diversi eppure non ha lo stesso impatto tutti si ricordano Teutoburgo però la rivolta batava che annienta due legioni e cattura un'intera flotta romana quella nessuno se la ricorda praticamente e riunisce molte tribù celtiche e germani questo perché i batavi facevano da ponte tra i germani oltre il Reno e i celti nella gallia belgica se non sbaglio perché come molte popolazioni germaniche lungo il Reno si erano molto molto celtizzate perfetto però qua c'è anche scritto che i druidi incentivano la rivolta quindi i druidi dei celti diciamo appoggiano la rivolta batava e assieme a loro passo avanti in questo modo andiamo all'imperium galliarum e in questo modo si sollevano altre popolazioni celtiche nuovamente i treveri e poi soprattutto i lingoni che si schierano diciamo durante questa questa rivolta adesso la cartina che ho messo purtroppo è letteralmente impossibile trovare cartine della gallia romana del primo secolo io e Giacomo le abbiamo cercato ovunque però più o meno per farvi capire la posizione di queste due popolazioni e a guidarle sono altri nobili sono altri nobili di origine gallo romana importanti i treveri sono guidati da classico da Caio Giulio Classico e da Caio Giulio Tutore ma è interessante la figura invece del leader dei sequani che è Caio Giulio Sabino questo perché lui almeno da quello che citano le fonti se non sbaglio diceva di essere discendente di Giulio Cesare diceva di essere discendente di un figlio illegittimo di Giulio Cesare e quindi lui si autoproclamò Cesare e fondò praticamente questa specie di imperium galliarum di un impero però che sicel celtico si gallico ma che ormai aveva anche una forte base romana giusto? si allora se me lo permetti volevo leggere velocemente le due righe di sito sulla cosa dei druidi prego vai pure allora questo è questo non è dagli annali è dagli stori comunque l'arrivo della notizia della morte di Viteglio in Gallia e Germania causò una seconda guerra civile abbandonò ogni dissimulazione e attaccò direttamente il potere del popolo romano mentre le legioni di Viteglio preferivano una servitù straniera piuttosto che il gioco di Vespasiano i druidi dichiararono che l'incendio del Campidoglio era un segno di ira divina e chiesò a gran voce un impero universale delle genti della Transalpina quindi tutte le popolazioni galliche praticamente perché la Transalpina ovviamente si indica tutto ciò che è al di là delle Alpi e quindi dalla Narbonese fino alla Belgica esatto poi come giustamente detto te erano tre veri lingoni tre veri guidati da Classico e Tutori lingoni guidati da Sabino e Sabino oltre ad annunciare la sua ipotetica discendenza bastarda da Cesare si autoproclamò Cesare e si proclamò appunto Cesare dell'Imperium Galliarum l'impero delle Gallie che fondamentalmente di Gallico culturalmente parlando aveva quei rimasugli che si erano uniti con la cultura materiale romana ancora strascichi importanti all'epoca evidentemente vista la presenza dei druidi di religione gallica che sottolineo la religione gallo-romana come sincretismo assoluto non esiste erano sincretismi ben o male regionali come d'altronde la religione gallica a parte un pante un pante celtico prevalentemente regionale e a parte anche la presenza dei druidi come corpus sovratribale e niente comunque mi sono perso nel discorso è una rivolta indipendentista sì ma non è una rivolta dal punto di vista etnico cioè alla fine loro si sentono sì nel senso è una rivolta allora la personalità della rivolta è romana imperium galliarum cesare i nobili si consideravano romani era fondamentalmente l'idea di creare una Roma gallica come Arminio voleva creare una Germania romana sì una Roma germanica voleva creare sì cioè praticamente sfruttare una Roma germanica ho invertito i termini sì soprattutto perché visto che lui ha lottato esattamente per evitare quello sarebbe un po' ridículo ho invertito i termini perfetto dopo un'ora mi scureggia il cervello comunque giusto per concludere questa rivolta alla fine Sabino attacca i sequani ma viene sconfitto così come Classico e Tutore marciano verso Magonza ma anche lì vengono sconfitti vengono sconfitti in realtà prima della rivolta Batava la rivolta Batava continua fino a anche fino alla fine del 70 loro vengono sconfitti più o meno agli inizi del 70 dopo Cristo però in realtà loro scappano Sabino e Classico riescono a fuggire si danno la macchia poi non si sa bene che fine abbiano fatto se non sbaglio non ricordo cosa ne dicono le fonti però in realtà questi leader non vengono presi giusto? o successivamente vengono catturati? no allora Classico e Tutore vengono sconfitti e presi bene o male subito è Sabino che riesce a darsi alla macchia ma viene poi trovato dagli agenti di Vespasiano ucciso ah ok quindi alla fine vengono eliminati tutti vengono eliminati tutti alla fine e poi domande ora Michael fa una domanda si sa qualcosa del pensiero che ebbero intellettuali passati per esempio medioevo età moderna sui Galli barra Celti in generale cioè non necessariamente francesici cosa ne pensava la gente dei Celti adesso non parliamo in età romana ne parliamo successivamente cioè nel medioevo oppure nel nel rinascimento cioè si parlava dei Celti o erano tra virgolette taciuti queste origini cioè queste questa parte di storia e si esaltava principalmente la storia romana allora bisogna bisogna vedere in che zona d'Europa d'Europa si parla perché qui è molto generale nelle isole britanniche è lievemente diversa la situazione presumo più in Gallia presumo comunque nella zona si parli dei Celti continentali alla fine presumo allora anche questo è un discorso molto molto complesso un esempio che posso fare è che molte delle città sorgono adesso in Gallia in Francia e Belgio e quant'altro hanno nomi che proprio derivano dall'identità della popolazione gallica che viveva lì nonostante magari in epoca poi romana avessero un altro nome ancora io faccio un esempio Javol che è un piccolo paesino francese del centro sud della Gallia Javol in epoca romana era la capitale di una civitate adesso non mi ricordo bene come si chiamava la tribù un attimo che lo cerco comunque si salda comunque a questa domanda i gabali i gabali ok perfetto e perché faccio questo esempio perché dopo con l'invasione burgunda e nel medioevo Javol abitata dai gabali nome romano Anderitum cambia il nome in Ad Gabalum dal quale poi deriva l'odierno Javol per esempio Lutezia eh sì quella Lutezia nel territorio dei Parisi oggi è Parigi perché Parigi deriva proprio dai Parisi che poi era Lutezia Parisorum se non sbaglio e divenne per esempio la capitale inizialmente dei 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 franchi e altra domanda giusto diciamo facciamo ancora questa poi passiamo alle conclusioni c'erano ancora Celti nel medioevo nelle misure britanniche sì e poi nell'ex armonica quella che poi è diventata la Bretagna cioè diciamo c'erano popolazioni di origine celtica sì in generale in realtà anche in Gallia in Gallia in Germania in Francia in Germania in Belgio in Spagna in cioè in realtà dove non è che hanno cessato di esistere semplicemente si sono piano piano adattati in maniera anche abbastanza sincretica con le popolazioni che sono arrivate dopo semplicemente non è che hanno cessato di esistere una cosa che mi ha sempre fatto ridere che avevo letto su un libro che dovrebbe essere nel nome del signore dovrebbe essere un libro che parla del medioevo in generale parla abbastanza in maniera generale dell'impero del medioevo e parla anche della sottomissione dei gallesi da parte degli inglesi di Edoardo I se non sbaglio e parla di questi gallesi che quando vengono sconfitti però pensate i gallesi quindi comunque popolazioni di origine celtica cioè i gallesi parlano più o meno perché in realtà anche lì il gallese sta abbastanza sparendo allora il gallese è britonico lo scozzese e l'irlandese sono gaelici ok perfetto grazie quindi il britonico comunque una lingua di origine celtica praticamente in realtà quando vennero conquistati si lamentarono dicendo che con loro era accaduto l'ultima parte indipendente di impero romano e non pensavano nemmeno lontanamente di essere celti loro credevano di essere ancora romani quindi questa cosa mi ha sempre fatto ridere perché ho detto cosa non è andato bene nelle comunicazioni tra loro e il resto del mondo in quel momento non lo so però mi ha sempre fatto ridere questa cosa del fatto che anche i celti stessi a un certo punto si sentirono quasi più romani che celti a un certo punto si ma ti dico la nobiltà la nobiltà gallica ha cominciato a sentirsi romana già dalla seconda prima seconda generazione dopo Cesare oppure il dominio di Suasson vuoi mettere? per esempio ma più importante adesso che passiamo alle conclusioni casomai lo diciamo adesso potete vedere bellissima adesso non lincetemi per il Galata Morente che in realtà c'entra con i Galati e i Attali e Pergamo l'ho messo perché mi pareva carino come rappresentazione ma molto bello anche è il questa opera d'arte in oro realizzata da Mani Gallo Romane che si chiama Giacomo perché io la patra di Ren la patra di Ren perfetto e questo perché arriviamo alle conclusioni perché parliamo dell'influsso dei Gallo Romani perché con questa presentazione diciamo io almeno il progetto è di portarne una seconda appena sarà possibile ovviamente appena Giacomo avrà tempo e io uguale perché ovviamente purtroppo non possiamo dedicare il 100% ai nostri rispettivi canali ma appena possiamo parlare della Gallia sempre romana ma nel contesto del terzo secolo e del quarto secolo quindi di come a un certo punto rinasce un sentimento di indipendentismo ma è comunque un sentimento un desiderio che non è più prettamente celtico cioè di celtico almeno nel primo caso se ne parla poco è l'imperium Galliarum quello del terzo secolo quello di Postumo che vedrà la creazione proprio di un impero gallo romano che andrà a prendere praticamente tutto l'occidente romano dalla Spagna alle isole britanniche e tutta la Gallia e successivamente invece tentativi ribelli ribellioni brigantaggio ad opera dei bagaudi invece che sono contadini pastori briganti esattamente come ho detto di origine celtica invece loro sono prettamente celtici che diedero molti grattacapi all'impero romano e che dalla fine del terzo secolo fino a praticamente la caduta stessa dell'impero rimasero presenti in tutta la Gallia settentrionale questo è diciamo il mio desiderio questo ovviamente con Giacomo che ci ha agliettati questa questa sera e al quale veramente ti ringrazio tantissimo perché io adoro portare qui ospiti che sanno il fatto loro così come con Lorenzo e con te nella stessa maniera è bellissimo perché ci fate scoprire un sacco di cose che io personalmente ignoro solitamente nonostante il fatto che molta gente mi creda un sapiente in realtà no io veramente penso di sono sempre poco di quello che trattiamo ed è una scoperta in primo luogo proprio per me e poi ovviamente per la per la nostra chat niente io ti lascio qua alle conclusioni se vuoi dire qualcosa se ti va di fare delle considerazioni finali su questa presentazione e poi andrò a mostrare il canale tuo di Lorenzo ma io più che altro volevo sapere se qualcuno aveva delle altre domande nel caso velocissimamente si si due cinque minuti si si perfetto intanto io intanto io se vuoi vado a mostrare il il vostro canale così si si vada vada perfetto non cincischi esatto esatto qui abbiamo il canale di incontri di storia di Giacomo e di Lorenzo iscrivetevi se vi interessa ci sono un sacco di video interessantissimi anche sui Celti ma non solo sull'impero persiano ci sono curiosità storiche viene parlato anche di Zorastrismo che tornerà appena possibile torna sul canale con una seconda puntata con il nostro bene amato Lorenzo e proprio qui sono state avete trattato dei anche dei druidi avete trattato dell'origine dei Celti di tutta la loro storia e proprio del loro influsso all'interno del mondo del mondo Celtico e poi non so anche quello romano e vi consiglio di iscrivervi è un canale che io personalmente adoro mi piace veramente molto e porto davanti da persone competenti a differenza mia ma che ecco niente no così sai che io sono sempre molto cattivo nei miei confronti i Celti in Pannonia vi viene fatta una domanda generale perché in realtà ci sarebbe un sacco da dire però cosa ci puoi dire così an passant dei Celti in Pannonia sì c'erano ci sono per esempio confederazioni celtoilliriche o anche prevalentemente celtiche come gli Scordisci gli Buraci e così via si sono trasferiti lì inizialmente con una prima migrazione lungo il Danubio poi il confluire di fondamentalmente guerrieri di ventura e truppe di mercenari da buona parte dell'Occidente Gallico fra gli ultimi decenni del IV secolo e il primo decennio del III secolo a.C. che poi dal di lì è dove c'è stato il trampolino di lancio per tutta quella che è stata l'invasione celtica dei Balcani che ha arraso il suolo mezza Grecia per intenderci e che è quella che poi ha dato vita ai Galati in Turchia poi aggiunge racconti dell'Adriatico che saluto anche Carni e Taurisci sì perché i Carni se non sbaglio erano una popolazione erano celtici perché poi è interessante il contesto della regione in cui almeno nella zona del Triveneto perché erano presenti sia popolazioni veneti che però non sono celti sia popolazioni celtiche che però erano divise a metà c'erano i veneti che separavano varie popolazioni celtiche che erano sparse sia per l'alco alpino che per la zona per esempio del Friuli Venezia Giulia e cosa interessante per esempio è che abbiamo qui da noi ogni anno più o meno il Triskel che è il festival celtico almeno qua Trieste ogni tanto facciamo in memoria di quei dei antichi celti che poi diciamo è molto bello dal punto di vista sia perché prendono parte anche i gruppi di rievocazione che sono sempre veramente molto bravi sia perché c'è dell'ottima musica perché arrivano band da tutta Europa e portano veramente dell'ottima musica che in caso se passate non mi ricordo quando è la prossima forse dovrebbe essere luglio forse vediamo covid permettendo e niente se passate vi consiglio di fare un salto perché è veramente una fiera molto carina i celti rasero solo mezza grecia è vero attaccarono anche delfi per esempio e lì è bellissimo perché secondo le fonti greche non sono riusciti a saccheggiare la città secondo cui le romane si si non si sa ogni volta i romani a chi dobbiamo credere non si sa allora ascolta la versione allora la versione di quella storia non si capisce assolutamente niente perché da come è descritta i celti praticamente sono arrivati hanno vinto un po' poi hanno preso sberle a destra e a sinistra sono stati decimati distrutti dall'inverno e da un'epidemia però allo stesso tempo sono stati in grado un po' di ritornare a casa con del gran bottino e altri a fondare un regno un regno gallo tracico che era il regno di Tulis e la Galatia che la Galatia poi è durata fino all'impero romano inoltrata perché ci sono appunto iscrizioni galate in Turchia di personaggi anche sotto Augusto e per fare anche Tiberio sì sì è vero è vero poi addirittura si creò il regno di Galizia che era un regno greco ellenico praticamente era un misto di greco ellenico di celto ellenico scusate ormai l'ora è un po' tarda e sì che praticamente a un certo punto i sovrani presero nomi addirittura greci Castore Aminta e scusa vuoi mettere Deiotaro Filoromaios sì o Filopatore cioè abbiamo Filadelfo perché diventano praticamente membri dell'elite culturale ellenistica a un certo punto però rimangono comunque garellini nella cultura al di là di tutto nella religione una cosa Michael M di dove sei così perché allora il druidia io abito a 20 no 30 chilometri da dove lo da dove lo fanno così forse vi incontrate lo fanno cesare un attimo ci vado tutti gli anni allora diciamo che rispondo a questa domanda di Francesco poi tempo per un'altra se vuoi se no stacchiamo vediamo dai intanto questa dai andiamo i Celti e i Germani in che rapporti erano dipende di solito erano in pessimi rapporti proprio pessimi lo vediamo con Ario Visto che invade la Gallia lo vediamo il fatto che le tribù celtiche della Bohemia di parte del centro sud della Germania sono state assimilate ai Germani ok Michael sei di Cesenatico sappi che io al Druide ci vado tutti gli anni come rievocatore ciao Simone bravo anche te che sei di Ravenna che bello vedere tanti compagni romagnoli qui così vi incontrate tutti quando si potrà si e veniamo a Triesta a picchiarti ah che bello non vedo l'ora guarda ti aspetto qua con i miei soldati con i miei legionari che poi non è vero perché vengono anche qui quelli della prima italica se non sbaglio però non so se ci sono gruppi romani proprio nella zona di Trieste forse è più verso Aquileia se non sbaglio dovrebbe esserci qualche gruppo rievocatore no forse sì forse in realtà conosco qualcuno però vabbè mi informo così quando arrivi qui con i rievocatori di Trieste li conosco ah sì ottimo così quando arrivi qui ti faccio trovare già pronta la legione schierata dai così ci bestiamo no no quelli che conosco sono certi allora niente mi dispiace allora mi saccanierete di botte come al solito e vabbè perfetto allora io Giacomo vado per le conclusioni e ti ringrazio veramente in chini profusione cioè veramente grazie mille per questa per questa live grazie mille per questa opportunità che ci date sia tu che Lorenzo di trattare argomenti anche particolari che la gente forse su questo canale non ha ancora sentito trattare e vi ringrazio e vi ringrazio anche a nome di gioello ovviamente che ascolterà domani o appena può la live e lo ringrazio per avermi dato la possibilità di portare questi ottimi video e niente io allora a tutti gli spettatori vi ringrazio anche a voi per essere stati qui con noi per le domande per essere stati attenti spero e spero che vi sia anche piaciuta questa questa live spero di portare presto una nuova live con il nostro buon Giacomo sempre nel contesto gallico se avete degli argomenti che potrebbero interessarvi comunque scrivete perché diciamo che ci piacerebbe comunque anche portare cose che vi interessino principalmente e non interessino soltanto me giusto così per dirla e niente io Giacomo avrei finito se tu vuoi dire ancora qualcosa prego a te la parola ok allora tanto grazie a te grazie Giulio ringrazio anche Gioele quando riguarderà se riguarderà questa live sono comunque io lo dici te ma sì ma la riguarderà vai tranquillo che le riguarda tutte lui vabbè grazie a tutti per essere stati qua per aver fatto le domande se vi iscrivete al canale di incontri di storia vi ringrazio vi ringrazio picchiando Lorenzo e picchiando Giulio esatto quindi se volete che io prenda uno schiaffo ogni iscritto al canale di incontri di storia sarà uno schiaffo nei miei confronti quindi ogni iscritto ha una schicchera nelle palle e vabbè adesso sei proprio crudele però cercate di essere buoni ho già visto sono andato a guardare adesso ho già visto che i nostri stanno aumentando sono aumentati ecco infatti maledetti grazie che ci passate iscritti no di nulla guarda figurati è un piacere sono le 23 in punto vi ringrazio vi auguro una buona serata a tutti e niente spero che spero di vederci presto nuovamente su questo canale vi auguro ancora una buona serata e io e te Giacomo ci sentiamo prossimamente per un nuovo video grazie mille a tutti e niente ricordatevi di iscrivervi sia al nostro canale sia al canale di incontri di storia buona serata ultima cosa ultima cosa Mattia la spranga da lancio la spranga da lancio perfetto ci ricorderemo tutti di questa cosa buona serata